Redmi 12. Sold by Speed Performance. Benvenuti nel nostro ultimo video, dove vi presentiamo lo Xiaomi Redmi 12 Osto barra 256 GB nella sua elegante versione in Midnight Black. Questo dispositivo offre un'esperienza utente senza precedenti, grazie ai suoi 8 GB di RAM. Con 256 GB di spazio di archiviazione, avrete tutto lo spazio necessario per foto, app e giochi. Il design Midnight Black dona al telefono un aspetto sofisticato e versatile. Dotato di un display Full HD+, lo Xiaomi Redmi 12 offre immagini nitide e colori vivace. La sua batteria di lunga durata vi permetterà di utilizzarlo tutto il giorno senza interruzioni. La fotocamera posteriore ad alta risoluzione cattura immagini dettagliate e video in qualità eccezionale. Grazie alla fotocamera frontale, i vostri selfie saranno sempre perfetti, in ogni condizione di luce. Lo Xiaomi Redmi 12 supporta la ricarica rapida, per tornare in azione in pochissimo tempo. Il sistema operativo Miui, basato su Android, offre un'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile. La connettività 5G garantisce velocità di download e upload incredibili, per restare sempre connessi. Il sensore di impronte digitale integrato assicura che i vostri dati siano sempre protetti. Con il supporto DualSAM, potete gestire facilmente due numeri di telefono in un unico dispositivo. Il dispositivo è compatibile con l'ecosistema Xiaomi, per una connessione semplice con altri dispositivi smart. Lo Xiaomi Redmi 12 è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Grazie per averci seguito in questa panoramica dello Xiaomi Redmi 12 8 barra 256 GB Midnight Black EU. Non dimenticate di iscrivervi per altri aggiornamenti. Rated 4.4 Stores. Order today for 122 euro.